Cosa faresti se tua figlia, tredicenne, si togliesse la vita e se la causa di questo suicidio fosse quello che hanno fatto altri intorno a lei, ovvero il bullismo? Le persone che non sanno come scaricare la propria frustrazione o per gioco, magari bullizzano. Che cos'è il bullismo? Che cosa significa bullizzare una persona? Perché io lo so, l'ho provato, non sono l'unico, anche tanti personaggi hanno vissuto qualcosa di brutto, per esempio Lady Gaga, Fedez, Pink hanno raccontato una storia di bullismo, l'ho vissuto anch'io, dopo te la racconto. Ma che cos'è il bullismo ragazzi? Una roba che può sembrare per gioco, scherzare con un amico, dici sai scherzo, scherzo, guarda quanto sei grasso, guarda quanto sei magro, guarda quanto sei storto. Qui una tredicenne è morta a Roma, tredicenne che comunque non aveva nessun tipo di problema, la madre se la ritrova impiccata con un filo elettrico in stanza. Ora dimmi tu come puoi commentare sta roba qua e come possiamo tutti insieme fare qualcosa, cioè come ti ho detto in altre dirette, cioè far qualcosa affinché possa migliorare la situazione. Perché qui i bulli ci sono di tutti i tipi, ci sono bulli da tastiera, poi li chiami leoni, per me non sono leoni, per me sono bulli da tastiera. Persone che cosa fanno? Non sanno che cazzo fare e quindi visto che non hanno attenzione per la loro vita, perché probabilmente la loro vita è una merda, allora devono entrare nella vita degli altri. Quando entrano nella vita degli altri che fanno? Non è che dicono buongiorno, sì, bravo, tu fai questo, tu fai quello. No, arrivano e devastano. E devastano con che cosa? Con la critica. Una critica qui, una critica là. Pensa che quando andavo alle elementari, una ragazza che si chiamava Sara, che era un po' grassottella, si è tolta la vita anche lei all'epoca, buttandosi di sotto da un quarto piano su Via dei Colli Portuenzi a Roma, perché era probabilmente esausta di andare a scuola e di trovare una scuola contro di lei. Perché io me lo ricordo, non era solo una mia classe, era tutta la scuola. Ogni volta che passava tutti scherzavano, poi si vestiva anche un po' così male. E quindi questo era lo sport della scuola, prendere in giro Sara. E quanti casi ci sono di persone che fanno una roba del genere? Quanti casi? Ma a ognuno di noi è capitato di scherzare. Però purtroppo lo scherzo che per noi sembra semplicemente uno scherzo, si trasforma per un dramma, per alcune persone un po' più sensibili. Perché ogni cosa che noi mettiamo in questo inconscio ci rimane, ci rimane. Capito? Quando una persona ti dice, ah, sei un cretino, sei un incapace, sta roba qua rimane. E quando poi, come sempre qui a Roma, quella persona autistica che è uscito dopo tre anni di casa, gli hanno tirato le uova. Sempre un articolo di giornale, che non ti metto qui perché è inutile, basta che leggi i giornali. Io, cosa ti posso dire? Io personalmente ho le palle piene. Nel senso che, dato che la vivo anch'io sta roba qua, la vivo perché se qualcuno è un po' più introverso, se qualcuno ha un momento di down, se qualcuno ha un handicap di qualsiasi tipo, se una persona fa una scelta diversa anche a livello, che ne so, guarda quello che stanno facendo a chi ha un orientamento sessuale diverso, a chi ha anche un orientamento sportivo diverso. Ma secondo te è una cosa normale? Ma secondo te oggi, nel 2021, si può fare una cosa del genere? Si può subire una roba del genere? Si può sentire che una ragazzina di 13 anni non ce la fa più? Tanto che gli avevano proposto, la mamma aveva intenzione di cambiargli scuola. Ma dove cazzo viviamo, ragazzi? Ma dove viviamo? Ma è sui social? Anche perché poi questa ragazza qui non la bersagliavano sulla scuola, la bersagliavano pure sui social. Allora, visto che c'è tanta censura, io ne so qualcosa perché su YouTube di tanto in tanto mi tolgono video, l'altro giorno mi hanno tolto anche un video qui, io capisco la censura da una parte, non la condivido dall'altra, soprattutto per come viene applicata. Ma perché non me ne entrano in campo delle forze? Proprio se vuoi le forze dell'ordine, oltre che l'autorità garante. A fare in modo che chi fa il bullo da tastiera viene bloccato quando dici le parolacce, quando offendi, a un certo momento a forza di essere segnalato una volta, due volte, tre volte, Facebook, Instagram o tutte le altre piattaforme ti prendono e ti mandano affanculo, ti mandano, basta, chiuso l'account. Perché stai violando la policy comunque della piattaforma, visto che comunque se uno mette un video sbagliato, per esempio se parli di denaro, se parli di lavoro, se parli di cose... direi la maniera sbagliata, Facebook ti blocca, ti chiude il business manager se fai marketing, non so se sei esperto di marketing, ma io dico, come cazzo invece permettono sta roba qua? Come permettono? I bulli ci sono a tutti i livelli, anche molti politici fanno i bulli. Alcune persone che ricoprono un ruolo di potere fanno i bulli, però nessuno dice niente. Cioè, quando esce il discorso dell'omofobia, su cui sono d'accordo anch'io, allora si alza un pochino più di polverone, ma in generale l'aggressione verbale o fisica, che poi sul lavoro si chiama anche mobbing, deve essere punita ragazzi, deve essere punita, ma deve essere anticipata sta roba qua. Cioè la scuola, i professori, tutte le persone, ma anche gli alunni, quando assisti a una roba del genere bisogna intervenire subito, non dobbiamo aspettare che una persona si tolga la vita o che si traumatizzi per una vita. Questo è il problema, perché alcuni perdono la vita, si lasciano andare, alcuni si traumatizzano a livello psicologico e magari fanno dei danni, non escono più di casa. C'è gente che non esce più di casa perché magari è stata traumatizzata dagli amici, se poi si possono chiamare amici, oppure magari gli è successo qualcosa, un evento negativo, sempre con un discorso di bullismo, e non escono di casa o sono costretti a cambiare città, oppure magari si traumatizzano così tanto che cambia il loro carattere, che magari diventano aggressivi, diventano diffidenti, cicatrici invisibili che si portano magari per una vita. Allora come si può intervenire sta roba qua per non far rimanere sta diretta sterile? Si può intervenire, si deve intervenire, per far sì che oggi dobbiamo parlare purtroppo di un altro morto, ma ce ne sono stati tantissimi, ti ho detto anche nella mia vita diretta, personale, di quando ero piccolo, Sara, quella ragazza, si è tolta la vita, quindi ce ne stanno tantissimi, e i giornali ne parlano e non le parlano. Allora io voglio amplificare questo messaggio di oggi, per far sì che iniziamo a mettere un po' di punti fissi, e a dire cosa posso fare io in Italia? Dici, sai, io sono piccolo, sono piccolo, sono piccolo così. Uno può pensare, no? Davanti a 60 milioni di italiani, oggi sono piccolo. Non è vero, perché tu puoi e devi fare la tua parte. Quando vedi un'ingiustizia, io per esempio il motivo per cui ho fatto le dirette, ho fatto le interviste l'altro anno, è che ho visto delle ingiustizie, soprattutto sotto il profilo mediatico, cioè ingiustizie dove alcune informazioni importanti non venivano comunicate. Oggi anche di questa morte, di questa tredicenne, per me è un'ingiustizia non comunicarlo, come è stata un'ingiustizia non intervenire a risolvere quell'ingiustizia, cioè bambine che andavano a bullizzare una ragazza che neanche aveva nessun problema da quello che racconta la madre, non era né obesa, non aveva nessun handicap, semplicemente aveva un carattere un po' più debole, era un po' più riservata, era un po' più introversa, e quindi si erano tutte schernite, si erano messe insieme contro di lei, sostanzialmente. E questa cosa l'ho vista accadere anche su di me. Brevemente ti dico che io fino alla seconda media ho subito bullismo. Che tipo di bullismo ho subito? Semplice, le stupidaggini, le battute, le solite battute, poi chi è che non ha fatto una battuta a scuola? Chi è che non ha fatto il cretino a scuola che non ha fatto la battuta? L'abbiamo fatta tutti la battuta, no? Almeno una volta l'abbiamo fatta tutti, cioè che abbiamo fatto, ah, guarda, guarda che occhi, guarda che capelli, guarda che testa, guarda che gambe, guarda che piedi, guarda che scarpe. L'abbiamo fatto tutti, l'abbiamo fatto tutti, ok? Soltanto che quando qualcuno diventa violento, ok? Perché questo significa il bullismo, essere violenti, allora a quel punto il gioco non c'è più, non è più un gioco a quel punto, a quel punto diventa una violenza. Cioè quando ti portano, che ne so, ti fanno cadere la merendina, te la rubano, ti fanno cadere l'astuccio, ti rubano la penna, ti buttano giù le cose, ti cominciano a dare le schicchere, quindi li schiaffono in testa. Io l'ho vissuta, mi ricordo, agli elementari, ma soprattutto alla prima e alla seconda media. Perché alle seconda media hanno smesso di bullizzarmi? Semplicemente perché sono riuscito, cioè una cosa che è successa, io non parlavo con mia madre da tanto tempo, da anni, perché mia madre se n'era andata di casa, se n'era andata di casa che io avevo otto anni circa, non ci parlavo da anni, nel gioco che stavano facendo con me, che non era un gioco, strattonandomi, c'era una collanina con una crocetta che mi aveva regalato mia madre, la collanina si è rotta, quando la collanina si è rotta non ci ho visto più, ho reagito, da quel giorno che ho reagito hanno smesso di bullizzarmi, questa è come è andata, è come hanno finito, se io non avessi reagito in quel giorno, probabilmente non avrebbero più smesso, non avrebbero più smesso di bullizzarmi, questa è la realtà delle cose, secondo te è normale? Cioè uno si deve mettere a far rambo, si deve mettere a far botte, si deve mettere a far quello che deve fare per farsi rispettare, ma in che cazzo di mondo stiamo? Stiamo nel far west, stiamo nel far west, e una ragazzina di 13 anni come fa a ribellarsi? Deve picchiare le sue amiche per farsi rispettare, o forse noi dovremmo essere noi più civili, noi entrare in relazione con una persona magari più introversa, o indifesa, perché magari una minoranza, perché di solito che cosa fanno i bulli? I bulli difficilmente vanno da soli, stanno sempre in gruppetto, sempre in gruppetto, uno, due, tre, cinque, dieci, oppure i bulli al lavoro chi sono? I datori di lavoro, tutti quelli che ricoprono magari un ruolo di potere, che cosa fanno? Aggressioni verbali, violenze verbali, o addirittura in certi casi fisiche, ne ho parlato in una diretta giorni fa, una settimana fa circa, di quella situazione che era successa sempre a Roma, perché qui i coatti si chiamano a Roma, noi romani non si sa che ego abbiamo, mi dispiace che ogni tanto spara qualcosa sui romani, io sono romano, mi dispiace, ma abbiamo un carattere veramente a volte di merda, sono sincero, ma non sono tutti così, ovviamente generalizzo, ma parlo comunque dell'atteggiamento, atteggiamento da sbruffoni, poi ci sono in tutte le città gli sbruffoni, da nord a sud, i bulli ci stanno da nord a sud, però ultimamente le notizie sono più di Roma, e questo autobus, un ragazzo gay, che stava per gli affari suoi, è stato veramente, per me, non ti dico violentato, picchiato, ma quasi verbalmente, cioè questo tizio era arrivato a dirgli, non ti metto le mani addosso, perché è come se mettessi le mani addosso a una donna, ma che cazzo discorso è, perché lui ha dei gusti diversi, ha un orientamento sessuale diverso, e se nasce tuo figlio, così che fai? Lo picchi? Che fai? Lo mandi via di casa? Ma in che cazzo di mondo viviamo ragazzi? Ma per me sta roba qua non succede neanche 200 anni fa, 300 anni fa, ma nel 2021 stiamo tornando indietro, ma che succede? O forse saranno i social che amplificano sto messaggio, e purtroppo fanno diventare ancora più bulli, gli stronzi, o fanno venire più a galla, ecco, gli stronzi e la puzza che portano, quindi quello che ti vorrei chiedere in questa diretta, ma non per te e per me, ma proprio per questo paese, e se vuoi anche per il mondo, di intervenire, intervieni quando c'è qualcosa che non va, quando senti che qualcosa non è più un gioco, non è una battutina, perché poi comunque la battutina stessa, ripetuta più volte, il nostro cervello, il nostro inconscio, non recepisce lo scherzo, ok? Quando tu dici sei brutto, sei brutto scherzando, il nostro inconscio ascolta, studia un po' di psicologia, e capisci che il nostro cervello ragiona un po' come i computer, ok? Non cancella dati. Detto questo, quindi, già la battutina non andrebbe fatta, ogni volta che uno scherza, ogni volta, anche il chiamarsi per cognome, il prendere in giro il cognome, il nome, ok? Questo non fa bene al nostro inconscio, è giusto che tu lo sappia, però, al di là di questo, che la battuta la puoi fare, la fai, ci sta, c'è una sottila differenza tra, il bullo e il simpatico, cioè, il simpatico fa una battuta una volta, il bullo la fa due, tre, dieci volte, finché diventa aggressivo, ok? Diventa un'aggressione, e questo porta a dei danni, che possono essere lievi a livello psicologico, cioè la persona si traumatizza, perché comunque quella persona crede a quelle parole di merda di quella persona, perde, perde la cosa più importante, o una parte della cosa più importante, che si chiama autostima, e l'autostima è ciò, è il motore, è la benzina che ci permette di sognare, ci permette di fare le cose, ci permette di desiderare, ci permette di andare a letto soddisfatti, ci permette di sentirci appunto bene con noi stessi, e purtroppo l'autostima permette anche l'amor proprio, dovrebbero essere scollegate le due cose, purtroppo una persona che non si stima abbastanza non si ama, e tu pensa che cazzo di danno può fare un bullo, pensa una ripetuta battuta cosa può fare, nelle commitive spesso si scherza, sapessi quanto me ne hanno dette a me, quante me ne hanno dette, però non tutti siamo uguali, non tutti sotto pressione magari reagiamo, e magari ci nutriamo di quella pressione, perché a me posso dirti che quelle, spinta in negativo, mi hanno permesso di formare un carattere, proprio per non soccombere, però quella rabbia che io ho ricevuto, e che ho provato, io oggi la provo ogni volta che vedo delle aggressioni verbali, ogni volta che vedo un prepotente, ma il prepotente non è solo quello che ti taglia la strada, e ti minaccia di picchiarti, il prepotente è quello che comunque, per esempio il prepotente è colui che sui social, vuole ridicolizzarti senza motivo, vuole criticarti, il prepotente è colui che attraverso un ruolo di potere, come può essere un datore di lavoro, un responsabile, un manager, un politico, ti aggredisce, o comunque ti costringe a fare un qualcosa, oppure ti costringe, o ti umilia, una delle cose peggiori è l'umiliazione, quindi riflettiamo un po' su sta roba qua ragazzi, perché oggi nel 2021, dopo tutto quello che abbiamo passato, soprattutto stanno e mezzo, dovremmo pensare a altro, in teoria ci dovremmo sentire più uniti, in teoria dovremmo aprire di più il nostro cuore, in teoria dovremmo capire quanto è importante la vita, in teoria dovremmo capire quanto è importante essere uniti, e leggere sta roba qua a me mi fa male, una ragazzina di 13 anni, ma di che stiamo a parlare? Cioè neanche un maschietto hanno discusso, niente, qui stiamo a parlare di una ragazzina, ma quanti casi ci stanno dietro? Questa è una punta di un iceberg, e ne parlo perché è giusto dare messaggio, e dare visibilità a sta roba qua, mi dispiace non avere la visibilità di Fedez, ok, perché se oggi l'avesse fatta Fedez, lui ha molta più visibilità, e forse il messaggio sarebbe arrivato più lontano in Italia, e mi accontento di quello che ho, ovviamente tu puoi fare la stessa cosa, puoi prendere il tuo telefono e fare un video, dove parli di questo, e dove sensibilizzi le persone a questo tema importantissimo, perché oggi che non viviamo in guerra, oggi che non moriamo tutti di fame, abbiamo difficoltà economiche, ma le possiamo e le dobbiamo risolvere, oggi non possiamo morire per sta roba qua, assolutamente no, non possiamo vivere male per sta roba qua, perché pochi muoiono per fortuna, ma molti vivono male, per questo cazzo di bullismo che c'è a tutte le età, e in tutte le circostanze, nelle squadre, nella politica, nei regimi, parlano dei regimi che possono essere quelli tra militari, il nonnismo lì c'è, c'è nelle aziende, con il mobbing, c'è nelle famiglie, i fratelli più grandi, i cugini, i nonni, c'è ovunque questo cazzo di bullismo, e noi oggi dobbiamo essere intelligenti e sensibili, e intervenire, anche se non siamo noi gli interessati, proprio perché dobbiamo aiutarci, dobbiamo comportarci da eroi, ok? Ti voglio bene.